Ciao ragazzi, benvenuti in questo breve video So che in realtà non doveva uscire questo video Però doveva uscire un'altra cosa Anzi, sono il 18 quindi in realtà non doveva nemmeno uscire questa cosa Però siamo per andare in live Su Hitbox, avete il link qui sotto Tipo dovrebbe essere, credo il secondo link Il primo link, comunque lo metto tra i primi link Di Hitbox, mi raccomando E andremo a expare i nostri Pokémon Per un paio di ore su Hitbox Visto che comunque, infine, già avevo detto che volevo fare un live Avevo detto tra sabato e domenica E uscendo sabato, che in realtà è un bel giorno C'è un bel sole, infatti vedete che c'è la mia webcam Molto carina, molto bella E quindi voglio sfruttare questa situazione per poter fare un bel live Molto tranquillo Trovate qui sotto il link per poter accedere a Hitbox Mi raccomando, vi aspetto in live Più o meno fra, non so, 10 minuti In ogni caso inizieremo subito quando verrà caricato questo video Quindi, vi aspetto Ciao ragazzi